Ce l'avete chiesto in parecchi, Motorola non ha portato solo il Motorola One qui a IFA ma anche il Motorola One Power Non ve l'abbiamo fatto ancora vedere perché banalmente è un dispositivo che è previsto soltanto per l'India al momento però è devo dire interessante, a bordo abbiamo infatti uno Snapdragon 636, abbiamo 64 GB di memoria interna ovviamente espandibile, un display 19 noni quindi Full HD+, quindi leggermente più allungato e quindi facile anche da tenere con una sola mano sebbene essendo così alto non si riesca ad arrivare facilmente alle notifiche ma ci sono poi le gesture e quelle implementazioni Motorola che comunque si sposano bene con l'interfaccia Android One Il sistema operativo a bordo è ovviamente Oreo 8.1 ma sarà aggiornato alla versione 9 Pie nel prossimo futuro probabilmente già entro la fine dell'anno, vedremo un attimino anche da questo punto di vista come supporterà Android One Google Nella parte alta l'inconfudibile notch che giusto perché ce l'ho in tasca vi faccio vedere come sia praticamente identico dimensionalmente al Pocophone sia per quanto riguarda le dimensioni estetiche dello smartphone sia per quanto riguarda proprio il notch Posteriormente abbiamo una fotocamera doppia da 16 più 5 megapixel con doppio flash LED e la fotocamera anteriore invece è una 12 megapixel, l'interfaccia è la classica Motorola mi aspetto, ciao a tutti, mi aspetto anche che ci siano delle gesture che magari non abbiamo visto su Android One ma che sono state magari implementate da Motorola, ho sentito vibrare, sì quindi esatto c'è il lancio della fotocamera, probabilmente ci saranno le Moto Action all'interno del menu vediamo un po' Moto probabilmente qua, esatto, che permettono di accendere il flash, attivare la fotocamera o ancora gestire tutte quelle funzionalità di display, ambient display avanzato appunto classiche di Motorola prezzo non le ho idee al momento credo che però sarà suppondo intorno ai 399 euro quindi un centinaio di euro in più del Motorola One spero sinceramente di vederlo in Europa, la finitura posteriore dietro è un pochino più cheap a vedere, ha la sensazione del Motorola One, mi piace meno soprattutto perché la fotocamera posteriore scimmiotta un po' quella di iPhone X, diciamo mal comune mezzo gaudio perché ormai sono più o meno tutti così però un prodotto che vedremo se arriverà anche in Europa ciao a tutti da Niccolò